Chiudiamo ora per non chiudere per sempre. I cantieri edili delle Marche, compresi quelli della ricostruzione post-sisma, si fermano clamorosamente. Dopo il caro materiale, ora pesa anche il costo dell'energia. L'allarme delle aziende e continuare a lavorare costa più che restare chiusi. In tre mesi rifornire il serbatoio è arrivato a costare più del doppio. L'autotrasporto marchigiano, 4.000 imprese e 12.000 addetti al bivio, fermarsi o continuare a lavorare. Attesa per l'incontro col vice-ministro Teresa Bellanova. Covid. I contagi in una settimana aumentano del 41,9% nelle Marche, dove la campagna vaccinale per i più piccoli registra dei ritardi. L'assessore alla sanità Salta Martini, sulla fine dello stato di emergenza, il primo aprile, non un liberi tutti. Bolkestein, prima di ogni iniziativa di riordino del settore, la regione Marche, chiede la mappatura delle coste per verificare la disponibilità di spazi. Il presidente Acquaroli tuterà le chi ha investito a gara solo le aree libere. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Etg Marche. Vi ricordo che siamo in onda anche streaming sul portale, sulla app e sulla pagina Facebook di Etv. In apertura l'allarme che arriva dalle aziende del settore dell'edilizia. Chiudiamo ora per non chiudere per sempre questo il loro commento per le difficoltà che sta affrontando il settore. Prima il caro materiale, ora però pesa anche il costo dell'energia. Continuare a lavorare così, dicono, costa di più che restare chiusi. Chiudiamo ora per non chiudere per sempre i cantieri edili delle Marche, compresi quelli della ricostruzione post-sisma del 2016, si fermano clamorosamente. Continuare a lavorare costa di più all'azienda rispetto a restare chiusi. Se il caro materiale era già emergenza, è emersa ormai da tempo con la bolla speculativa generata dai bonus edilizi, ora con il costo alle stelle dell'energia e la guerra in Ucraina, la tempesta perfetta è servita. Il nostro settore che vuoi per il caro materiale, vuoi per il caro energia, sta soffrendo e soffre particolarmente anche con tutta questa mole di lavoro, l'ireperibilità dei materiali appunto e l'assottigliarsi degli utili, anzi, gli utili sono proprio scomparsi, stiamo lavorando in deficit. Quanti cantieri si stima siano fermi in questa fase? Ad oggi registriamo circa 150-200 cantieri fermi, ma sicuramente questo è un numero che si andrà ad aumentare nei prossimi giorni. Come incide anche la guerra in Ucraina in questa fase? La guerra in Ucraina incide negativamente perché oltre ad aumentare dei costi, ci dà una carenza di materiali che sono quelli che ci occorrono per portare avanti tutti quanti gli interventi, sia sisma che bonus, con le scadenze alle porte. Pensiamo all'asfalto, al calcestruzzo, non solo sono aumentati verticinosamente, ma non abbiamo neanche un riconoscimento di questi aumenti da parte delle amministrazioni e del governo, eccetera. Nel settore degli asfalti, lì abbiamo gas, energia elettrica e petrolio per il bitume. Abbiamo proprio le tre componenti che sono aumentate in percentuale maggiore su tutto il discorso della filiera delle costruzioni. Rischiano di fermarsi anche le manutenzioni quindi nelle città? Sono già ferme, sono già ferme perché sono dei costi che sono aumentati del 40-50% e non sono sostenibili per le aziende. Per quanto riguarda la situazione del post-sisma non c'è differenza? No, non c'è nessuna differenza per il post-sisma, anzi lì registriamo dei problemi ancora più gravi perché abbiamo dei preziari obsoleti che risalgono al 2016 revisionati nel 2018 ed aspettiamo da un anno la revisione prezzi che il commissario Legnini ci aveva garantito. E al bivio se continuare a lavorare o fermarsi è arrivato anche il settore dell'autotrasporto. In termesi rifornire il serbatoio dei camion è arrivato a costare più del doppio. Si attende ora l'incontro col vice ministro Teresa Bellanova. Per rifornire un serbatoio di 600 litri di un camion occorrevano tre mesi fa 680 euro, oggi ne servono 1.250. I conti sono presto fatti, il dilemma è conseguente. Vale la pena continuare o meglio fermarsi? L'autotrasporto marchigiano, 4.000 imprese, 12.000 addetti e al bivio. In attesa di un incontro col vice ministro Teresa Bellanova dal quale sono attese risposte concrete. Il settore ha le prese con costi insostenibili a causa del caro carburante. Le proposte, riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 30% del prezzo del gasolio, introduzione del costo minimo di esercizio e di una clausola di adeguamento automatico delle tariffe applicate quando il prezzo del gasolio aumenti o si riduca di oltre il 2%, rafforzamento della norma sui tempi di pagamento, regolamentazione efficace delle soste e delle attese al carico e scarico, tavolo delle regole per l'accesso al mercato e alla professione. Le rincarie sui carburanti stanno decidendo in maniera determinante, soprattutto per lo stato di agitazione che si sta creando all'interno proprio di quelli che sono il servizio dei corrieri. Molte merci non arriveranno perché i corrieri hanno rischiato di fermarsi e oggi c'è l'incontro con il governo che speriamo sia propositivo, ma anche lì si va verso questa direzione. Occorre che gli autotrasportatori abbiano certezza di quello che pagheranno il carburante anche girando per tutto il paese. Oltre il 70% che c'è stato, 60-70% di aumento del costo del gasolio principalmente, non parliamo del metano e ci sono molti autotrasportatori che stanno andando a metano perché sembrava che era la strada giusta per ottenere dei risparmi, oggi conviene girare il gasolio sicuramente, però c'è anche uno stato di agitazione, di profonda preoccupazione con il rischio che molti autotrasportatori se non hanno il camion pieno non partono e quindi ci sono già, lo stiamo già verificando, ci sono ritardi sulle consegne delle merci. E dopo una settimana di fermo per il caro carburante riprenderanno il largo nella notte i pescherecci della marineria di Ancona, ma sabato è prevista una nuova assemblea per decidere la strategia della prossima settimana. Eravamo abituati a fare quattro giornate di mercato su tre giorni di pesca, adesso abbiamo fatto la prima giornata dopo una settimana di sciopero, è andata abbastanza bene, il conferimento è stato intorno alle 3.000 casse, i prezzi sono stati buoni, il mercato ha assorbito tutta l'offerta portata dei pescherecci, quindi per il primo giorno è andata abbastanza bene. Riprenderanno il largo nella notte i pescherecci della marineria di Ancona in vista del prossimo mercato programmato per giovedì. Dopo una settimana di fermo riecco il pesce per ristoratori e commercianti, rigorosamente locale, in quantità leggermente ridotta per calmerare i prezzi e recuperare qualche spesa. Noi l'unico modo che abbiamo per controllare il prezzo è pescare un po' di meno, diminuiamo le spese e cerchiamo di fare quei 50 centesimi in più al chilo sul prezzo del pesce. Noi abbiamo fatto la scelta di lavorare solo con il prodotto locale, è un mercato itico aperto a tutti ma principalmente vendiamo esclusivamente, non principalmente, solo il nostro prodotto. Ma anche molti commercianti hanno fatto questa scelta strategica che è limitativa ma è una scelta strategica di lavorare solo con il prodotto locale. I pescherecci di Ancona hanno deciso di uscire tre giorni. Sabato è prevista una nuova assemblea per decidere la strategia della prossima settimana, riprendere con la mobilitazione o proseguire l'attività. Noi stiamo lavorando ancora con il gasolio vecchio a 0,80. Quando facciamo i nuovi rifornimenti sarà sicuramente sopra l'euro, 1,20, 1,25 e lì diventa impossibile andare a lavorare per noi. Quindi aspettiamo un aiuto da chi dovere, dal ministero. Cosa chiedete e cosa vi aspettate dal governo? Uno spostamento di 20 milioni, quello è un aiuto che ci deve dare subito. Chiediamo la cassa integrazione e chiediamo il ripristino soprattutto della legge 30 e un'occhiata alla speculazione che c'è sul petrolio. La guerra in Ucraina frena il turismo, cancellazioni molte per l'est Europa e si prevede anche un aumento dei costi dei trasporti. Si è bloccato immediatamente il mercato perché inevitabilmente i venti di guerra bloccano qualsiasi velletta turistica. E quindi abbiamo avuto un fenomeno di blocco totale di tutte le prenotazioni e ovviamente anche dalla parte dei preventivi su tutta l'area che era ovviamente medio orientale, soprattutto nord e medio orientale e inevitabilmente tutto l'est europeo. La guerra in Ucraina frena la lenta ripresa del turismo già provato dai due anni di Covid. La paura della guerra tiene a casa chi aveva scelto l'est Europa come meta delle proprie vacanze e allontana anche la riapertura del turismo in alcuni paesi dell'estremo oriente le cui frontiere sono chiuse da inizio pandemia. Tutto il farista è ancora chiuso e dirò di più non solo è chiuso per effetto del Covid o perlomeno per la parte un po' finale del Covid ma in verità per esempio il Giappone è stato il primo paese che ha sospeso tutti i voli commerciali per l'Europa appena scoppiato la guerra quindi in verità le due cose sono un po' agganciate. Poi è altresì vero che invece nei ultimi due o tre giorni per esempio l'Indocina, quindi il Vietnam, Laos, Cambogia, Thailand hanno deciso di aprire, dal 27 di marzo hanno deciso di aprire l'India quindi si stava andando comunque verso una situazione piano piano di allargamento delle destinazioni chiaro è che la guerra inevitabilmente ha dato una brusca frenata a questa volontà comunque di riaprire. D'altro aganto c'è anche da dire che invece per fortuna tutta la parte occidentale, quindi Stati Uniti, in primis Messico, Canada da quel punto di vista lì in verità le prototazioni sono rimaste se non dopo qualche giorno abbastanza immutate. Resta chiuso chiaramente invece tutto quello che è il mercato in Oriente quindi parliamo di Cina, parliamo di Giappone avete visto anche un aumento dei prezzi sia per quello che riguarda i voli ma anche le strutture proprio? Al momento non ci sono stati ancora aumenti ma è inevitabile che se la benzina per la macchina è quasi raddoppiata la benzina avio sarà raddoppiata e quindi finite le scorte inevitabilmente ci sarà molto probabilmente anche un aumento dei prezzi sicuramente dei trasporti. E adesso la cronaca un 49enne di Pesaro è morto stamattina a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 7.30 sulla via panoramica Ardizio a Pesaro l'uomo viaggiava in sella a uno scooter quando all'altezza del civico 68 si è scontrato con un furgone che secondo le prime informazioni usciva da un passo sul posto si sono subito portati 118 vigili del fuoco e polizia stradale i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimare il centauro che è invece deceduto a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto la dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica i carabinieri forestali di Castignano e Acqua Santa Terme hanno denunciato il presunto responsabile di un incendio boschivo avvenuto lo scorso 11 febbraio in località Scalelle nel comune di Rocca Fluvione il rogo divampato dai residui vegetali di ripulitura di una tartufaglia propagatosi a una zona boscata per tre ettari ha visto impegnati per tutta la durata delle operazioni di spegnimento squadre di vigili del fuoco con mezzi antincendio di terra e un Canadair e ora vediamo quella che è la situazione pandemica i contagi purtroppo aumentano nelle Marche dove la campagna vaccinale per i più piccoli registra dei ritardi l'assessore alla sanità della regione Marche Filippo Saltamartini sulla fine del stato di emergenza dice il primo aprile non sarà un liberi tutti si ritiene ormai di considerarla una condizione endemica una condizione da affrontare senza particolari patemi per quanto mi riguarda invece io ritengo che la guardia assolutamente non possa essere abbassata tutte le precauzioni debbano assolutamente essere adottate ribadisce la linea della prudenza il numero uno della sanità delle Marche di fronte all'aumento dei contagi da Covid degli ultimi giorni in particolare dati del servizio epidemiologico nelle comparazioni delle ultime due settimane l'incidenza è incrementata di 3558 casi per settimana con una percentuale di crescita del 41,9% va meglio per i ricoveri che restano saldamente sotto la soglia per la zona bianca meno del 5% per le terapie intensive il 15% per l'area medica dietro all'impennata di contagi i fattori molteplici la maggiore trasmissibilità della variante Omicron 2 e una diminuzione dell'efficacia dei vaccini rispetto all'infezione mentre resta alta la protezione dai ricoveri gravi ne prova l'aumento dei casi nella fascia 60-80 anni dove seconda e terza dose sono appaiate quasi tutti hanno fatto il booster ma il 15% non è vaccinato resta alto anche il contagio per i bambini tra 6 e 10 anni per cui dallo scorso dicembre si sono aperte le vaccinazioni ad oggi solo un bimbo su 5 nelle marche è vaccinato sono convinto personalmente che la vaccinazione sia uno strumento efficace e sicuro per la prevenzione al covid però rimane ferma a questa sensazione che c'è probabilmente dovuta ad anni in cui nel nostro paese si è fatta politica di questo genere contro i vaccini, contro le multinazionali, contro Big Pharma poi c'è la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo conseguenza dal 1 aprile niente più Green Pass per bar e ristoranti all'aperto parrucchierie, centri estetici e niente certificato verde anche per poste, banche e trasporti resta comunque valida la cautela proteggere le persone fragili proteggere i propri familiari è un dovere non è un'imposizione che viene dallo stato o nell'interesse dello stato e per quello che riguarda i dati della pandemia a livello chiaramente regionale lo dicevamo prima purtroppo c'è un aumento dei contagi effettivamente nella comparazione delle ultime due settimane nelle Marche sono 3.558 i casi di positività in più con una percentuale di crescita del 41,9% nell'ultima giornata in particolare sono 3.271 i casi rilevati un'incidenza ogni 100.000 abitanti che galoppa a 862,99 ieri era 792,52 è risultato positivo il 44,2% dei 7.398 tamponi del percorso diagnostico è la provincia di Ancona quella dove si registrano maggiori positivi torna vicino ai mille casi giornalieri 940 in particolare seguono per numero assoluto di casi le province di Macerata 603 Ascoli Piceno 544 Pesaro Urbino 521 Fermo 520 mentre sono 143 i contagiati da fuori regione continua invece la discesa dei ricoveri 9 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 165 degenti di cui 12 nelle terapie intensive il tasso di saturazione covid delle intensive scende al 4,6% mentre in area medica al 15% salgono invece a 28 le persone in attesa nei pronto soccorso che lo ricordiamo non sono comunque comprese nel numero dei ricoverati mentre nell'ultima giornata purtroppo sono decedute altre 5 persone per un totale di vittime che sale a 3648 da inizio pandemia Cambiamo ora decisamente argomento Bolkestein prima di ogni iniziativa di riordino del settore la regione Marche chiede la mappatura delle coste per verificare la disponibilità di spazi il presidente della regione Francesco Acquaroli tutelare dice chi ha investito a gara solo le aree libere allargare la platea del territorio demaniale da destinare alle concessioni balneari sottoponendo a gara solo le eventuali nuove assegnazioni lasciando inalterate quelle attuali è l'obiettivo a cui sta lavorando la regione Marche in sede di conferenza delle regioni per evitare quanto previsto dalla direttiva Bolkestein per l'Italia vale a dire dal 2024 concessioni a gara senza ulteriori proroghe dopo il 2023 come disposto da ultimo dal Consiglio di Stato nell'attesa di una presa di posizione del Parlamento questo è il sentiero su cui si muove Acquaroli è un elemento di rimente che dobbiamo assolutamente chiarire e l'unico che può chiarirlo è il governo centrale le regioni hanno già fatto le mappature per le aree demaniali inerrenti alle spiagge basta verificare se c'è disponibilità del bene perché se c'è disponibilità del bene possono essere messe a gara quelle aree che sono libere intanto dal Consiglio regionale via ad una mozione unitaria approvata all'unanimità oltre ad una mappatura delle coste si chiede una disciplina doc che tenga conto delle specificità delle imprese che operano nel comparto del demanio marittimo prevenendo iniziative di tipo meramente speculativo chiediamo al Parlamento di tener conto dei contributi che sono arrivati dalle varie forze politiche ma soprattutto dalle associazioni per cercare di mettere nelle condizioni i nostri operatori di lavorare di investire di farlo con una sicurezza che oggi invece dopo le sentenze non hanno più è stata completamente cancellata il neopresidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale Vincenzo Garofalo si è insediato nella sede dell'autorità di sistema portuale ad Ancone e ha iniziato i primi confronti con i dirigenti e con la struttura per l'avvicendamento con l'ammiraglio Giovanni Pettorino lo ricordiamo commissario straordinario dell'autorità del mare adriatico centrale questa era la nostra ultima notizia io mi fermo qua vi ringrazio per averci seguito ricordandovi che potete trovare tutte le news aggiornate direttamente sui social sul portale sulla app di ETV Marche quindi ancora una volta grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i nostri programmi arrivederci